Salve a tutti ragazzi e bentornati da McShowsha L'altro giorno sulla pagina Facebook vi ho chiesto se vi poteva interessare un video in cui vi mostravo come registrare un gameplay Visto che me lo chiedete veramente in tantissimi Ho visto che vi interessa però non mi volevo limitare a fare un semplice video tanto per farvelo vedere Quindi ho deciso ragazzi di fare un video completo Cioè nel senso che potesse magari essere interessante per chi inizia a fare video e non sa magari come muoversi Oppure semplicemente ragazzi per mostrarvi tutto quello che c'è dietro E quando dico completo intendo completo voglio dirvi proprio tutto Partendo dall'inizio fino alla fine passando per il mezzo vi spiegherò come registrare un gameplay Voglio proprio mettere la mia esperienza tra virgolette a vostra disposizione Sono consapevo ragazzi che non sarà un video che può interessare a tutti ma spero che sia utile a qualcuno Soprattutto per quelli che vogliono iniziare Partiamo dicendo che per registrare avrete bisogno di questo Questo oggetto qui ragazzi è una scheda d'acquisizione o anche chiamato PVR E nel caso specifico questo qui è un Liver Gamer Portable della Vermidia Un ottimo PVR io mi ci trovo benissimo ma lo vedremo dopo Dovete sapere ragazzi che molti mi scrivete Ma come fai a registrare lo schermo così bene e non si vedono i bordi Ma ragazzi per registrare un gameplay da console soprattutto avrete bisogno di un PVR Ecco ragazzi mettiamo subito un punto sulla questione Iniziare a fare video su Youtube è abbastanza costoso perché l'attrezzatura ha un suo prezzo A partire dalla console passando per un PVR o un microfono di qualità Però se vi posso dare un consiglio quello che mi sento di dirvi è di non risparmiare sul PVR Perché comunque ragazzi è da lì che passerà tutto il vostro lavoro Tutta la qualità del vostro video E sinceramente se avete un PVR scarso o comunque un PVR limitante per la qualità del vostro video A lungo andare ne risentirete E fidatevi ragazzi che ve lo dice uno che lo sa Magari crescendo, andando avanti potete anche fare un upgrade della vostra attrezzatura Ma non risparmiate sul PVR perché è veramente ragazzi il vostro strumento principale con cui registrerete Detto questo ragazzi passiamo a parlare dei tipi di PVR che troveremo sul mercato Attenzione questa è una parte importante perché ragazzi a seconda delle vostre esigenze Vi orienterete su quale apparecchio comprare Diciamo subito ragazzi che esistono due tipi di PVR sul mercato Quelli fissi e quelli portatili Questo qui che sto utilizzando io è un portatile E' veramente comodissimo Vi spiego perché Il fisso ragazzi è appunto fisso Ovvero avrete bisogno per forza di un computer per registrare Quindi avrete bisogno ovviamente della console Alla console collegherete il vostro PVR che a sua volta sarà collegato al computer Quindi dal computer setterete tutti i parametri Potete aggiungere il microfono Settate tutto quello che volete Premete il tasto e registrate Ovviamente ragazzi il video registrato si salverà direttamente sull'hard disk del computer O la cartella che deciderete Quindi vi consiglio anche di avere un hard disk abbastanza spazioso Comunque poi vedete voi E quindi questo è per quanto riguarda il PVR fisso Per quanto riguarda il PVR portatile ragazzi E' qui che diciamo che è un'arma in più Perché questi tipi di PVR sono diciamo nuovi Sono usciti negli ultimi anni E ragazzi ci consentono di fare tutte e due le cose Sia di essere fisso che essere portatile Qual è però il vantaggio della portabilità? E' che appunto ragazzi potete utilizzarlo innanzitutto comodamente senza collegarlo al computer E fidatevi ragazzi che nel momento in cui volete fare un gameplay veramente veloce Così cotto e mangiato d'amblè Vi basterà semplicemente collegare l'alimentazione Inserire una scheda di memoria all'interno del portatile E registrate Premete un tasto e registrate Il tutto verrà registrato all'interno della vostra scheda di memoria Perfetto, finito Inoltre ragazzi è comodissimo perché lo potete portare anche fuori Se andate in fiera e volete registrare Se ve lo fanno registrare O semplicemente andate che ne so a casa di un amico perché vi volete divertire Ragazzi io ovviamente sto dando per scontato che voi volete registrare per fare qualcosa su YouTube Ma non è detto potete benissimo registrarlo per voi, per voi stessi, per divertirvi con gli amici eccetera eccetera E quando andate a casa di amici Ovviamente non è che vi volete portare il computer e tutto il resto Vi potete portare semplicemente l'apparecchio, ve lo portate dietro, due cavi e siete a posto Sinceramente ragazzi da quando ho provato il portatile non voglio tornare indietro perché è veramente comodissimo E soprattutto come vi ho già detto mi permette di fare tutte e due le cose Quindi dette tutte queste cose ragazzi e spero vi siate fatti un'idea un po' più chiara sui vari tipi di PVR Passiamo al collegamento dell'attrezzatura alle console e alla televisione pronti per registrare Quindi io ragazzi come vi ho già detto vi farò vedere tutti i collegamenti per il PVR che sto utilizzando in questo momento E vi farò però vedere tutti e due i collegamenti e tutte e due le modalità di registrazione Quindi senza indugio, sussacugio, iniziamo E adesso ragazzi passiamo ai collegamenti Spero che mi si veda, spero che mi si senta ma soprattutto ho un po' di raffreddore Quindi immagino per tutti quelli che mi vedranno d'estate ma comunque non è un problema Allora ragazzi qui abbiamo tutto quello che ci serve Probabilmente state vedendo tantissima roba ma tranquilli che è semplicissimo In realtà basterebbe per esempio leggere le istruzioni e ci mettete proprio due secondi a montare tutto Ma sono consapevole che non tutti lo fanno quindi ve lo spiego io Allora ragazzi tutto partirà dal vostro gamer portable ovvero questo sarà il fulcro di tutte le vostre registrazioni Adesso ragazzi io vi farò vedere come collegare il dispositivo tramite HDMI Molto semplice ragazzi e lo potete utilizzare per tutte le console che utilizzano appunto all'uscita HDMI Qui però ho una Playstation 3 ragazzi perché il collegamento con la Playstation 3 è un po' diverso Vi spiego perché Per Xbox che sia 360 o Xbox One non ci sono problemi Per le console Sony invece è un po' diverso perché c'è questo protocollo digitale L'autenticazione HDCP che bla 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 vabbè non vi interessa La cosa che vi interessa è che non potrete registrare direttamente tramite HDMI In realtà per PS4 adesso non ci sono problemi perché qualche mese fa comunque da qualche tempo È stato rilasciato un aggiornamento che dà l'opportunità di disabilitare questa autenticazione Quindi per PS4 non c'è problema ragazzi collegate direttamente l'HDMI Solamente ricordatevi di spuntare quell'opzione Per PS3 invece non è così e ci sarà un collegamento particolare che adesso vi farò vedere Ma prima ragazzi vediamo il collegamento HDMI diretto Quindi lo potete usare per Xbox 360, Xbox One e PS4 Quindi partendo dal vostro gamer portable Vedrete che ci sono due ingressi HDMI in e HDMI out Voi attaccate ragazzi tramite il cavo HDMI Entrate in in E l'altra uscita l'attaccate alla console Adesso ragazzi fate finta che questa PS3 sia una PS4 o qualsiasi altra console Lo inserite nella console ok? Niente di più facile Ok siamo così All'uscita HDMI out Collegate un altro cavo HDMI Ok siamo dentro Sì ci siamo entrati E lo attaccate direttamente alla TV Basta ragazzi semplice Detto fatto Adesso avete collegato la console alla televisione e al gamer portable Non vi resterà altro che collegare con il cavo USB al vano dove vedete il computer Collegate così E adesso dipenderà da voi ragazzi Se scegliete la connessione tramite computer Vi basterà semplicemente collegare il cavo USB a una porta USB del computer E poi scaricare il programma ma lo vedremo in seguito Ricordatevi però che se collegate con il PC di switchare all'icona PC Altrimenti ragazzi se volete utilizzare il gamer portable semplicemente così PC free senza l'utilizzo di un computer Ovviamente spostate, switchate a computer E invece di attaccare il cavo USB al computer Lo attaccate per esempio a un attrezzo testativo Per esempio questo qui è quello con cui carico io il cellulare Collegate e attaccate alla corrente E ragazzi il gioco è fatto Vi basterà semplicemente premere il tasto per registrare subito così Quindi ragazzi questo qui è la configurazione Questo qui è il cablaggio di cui avete bisogno nel momento in cui collegate il dispositivo tramite HDMI Quindi lo potete utilizzare come ho già detto per PS4, Xbox One, Xbox 360 Quindi tutto quello che vi serve In realtà lo potreste utilizzare anche per PS3 Però con una piccola aggiunta come vi dicevo Vi faccio vedere meglio In teoria per PS3 la cosa sarebbe diversa Perché non potete registrare con l'HDMI Avreste bisogno di collegarla tramite questo cavo Che comunque è dato in dotazione con il gamer portable Più piccola nell'ingresso AV-in del gamer portable E questa più grande nell'ingresso AV della PS3 Mentre per quanto riguarda l'uscita out del gamer portable Basterà, potete lasciare benissimo l'HDMI Ora che succede ragazzi? Sì questa cosa la potete fare Secondo me però con l'AV c'è una minima perdita di qualità Cioè ovviamente la qualità visiva esce meglio con l'HDMI C'è un modo ragazzi per registrare con l'HDMI Quindi diciamo aggirando questo blocco Questo protocollo HDCP Ed è questo oggetto qui ragazzi Avrete bisogno di uno splitter HDMI Praticamente il segnale passerà attraverso lo splitter E uscirà E potrete aggirare insomma questa autenticazione Ora vi dirò una cosa totalmente illegale Ma ve la dico lo stesso Questa cosa ragazzi potete utilizzarla con la PS3 Ma anche con tutti gli altri dispositivi che hanno un blocco di autenticazione HDCP Tipo Sky Cioè se invece di collegarlo alla PS3 collegato a Sky Registrate con Sky ma sempre tramite l'apparecchio E adesso vi faccio vedere come dovete fare con l'HDMI Vi ricordate cavo HDMI collegato alla PS3 Non lo attacchiamo direttamente al Gamer Portable Ma bensì all'ingresso HDMI input dello splitter HDMI Ovviamente ragazzi io utilizzo questo ma ce ne stanno 100 miliardi sul mercato Quindi inserite su IN Ora ragazzi avrete bisogno di un altro cavo HDMI Che io in questo momento non ho Ma potete scegliere qualsiasi ingresso Comunque da questo ingresso Inserite vedete quale volete E lo inserite poi in IN E poi ragazzi l'uscita OUT Come sempre OUT direttamente alla televisione Adesso io però non mi so portato un altro cavo HDMI Quindi ragazzi è proprio semplicissimo Non avrete problemi e potrete quindi registrare tramite HDMI anche la PS3 Detto questo ragazzi il collegamento è veramente semplicissimo Spero di non avervi confuso l'idea Ma fidatevi che è proprio una cacchiata E' più lo spiegare che il fare E adesso ragazzi vi mostrerò come registrare Nel caso specifico vediamo prima con il Gamer Portable collegato direttamente al PC Allora una volta collegati tutti i fili come vi ho fatto vedere Dovrete andare su questo link Scusate su questo link E scaricare l'applicazione e i driver Che vi permetteranno appunto di installare il programma Una volta installato il tutto lanciate Avermedia Rack Central Ragazzi questa è una parte fondamentale Perché un buon settaggio Una buona configurazione Vi permetterà appunto una registrazione di qualità Per esempio questo è il mio profilo di configurazione Già bello che ho fatto Con questa configurazione io solitamente registro i gameplay A noi ci interessa cattura Ma prima di andarlo a vedere Andate qui sulla rodellina delle opzioni Settate la lingua italiana o quella che volete E qui c'è un primo assaggio delle opzioni che possiamo trovare Io per esempio ho disabilitato queste icone Ma magari a voi può interessare Salvate insomma la cartella dove volete vedere I vostri file salvati E andiamo alla parte cicciosa La parte che ci interessa Ovvero la cattura C'è anche la possibilità ragazzi di streamare Perché l'apparecchio ce lo permette Tra l'altro all'interno della confezione Ci sono mi pare tre mesi di XSplit Gratuito Quindi non so se fate live su Twitch Magari vi può interessare Io purtroppo non ho la banda Abbastanza potente Comunque ragazzi ci interessa cattura a noi Per arrivare a questo profilo di configurazione Io vi consiglio di fare procedura guidata E siamo qui ragazzi Selezionate console di gioco Perché tanto è la nostra piattaforma E il collegamento che abbiamo fatto Se andiamo a sorgente video Potete vedere subito che qui ci viene replicato Quello che direttamente sta succedendo sulla Playstation 4 Ovviamente ragazzi selezionate HDMI o HDMI Perché l'uscita con cui abbiamo collegato il tutto è l'HDMI Vabbè se mettete component non vedrete niente ovviamente C'è l'opportunità anche di regolare il video C'è i colori Sinceramente ragazzi Lascio standard Perché se metto estesa Vedete Mi sembra un po' più chiaro Però questo dipende molto ragazzi Da come giocate voi Da quello che vi piace Quindi una volta settata la sorgente video Passiamo a quell'audio Come potete vedere qui sotto c'è Diciamo La mia tono La mia nota vocale Diciamo ragazzi che Se volete abilitare direttamente L'audio nella registrazione Basta che spuntate l'opzione microfono E salvate Oppure potete salvare il file mp3 separato Quindi quello che faremo Più tardi ragazzi ve lo spiegherò Io preferisco insomma registrare l'audio con Audacity Non perché qui il programma sia male Però con Audacity posso sempre regolarlo Cioè è un programma proprio ad hoc per l'audio Quindi io preferisco fare così E poi ve lo farò vedere Comunque se volete mettete Spunta Quanto riguarda il dispositivo di cattura HDMI Perché la sorgente audio Della Playstation 4 Passa per l'HDMI A meno che voi non l'avete collegato Tipo con un cavetto ottico O queste cose così Impostazioni video ragazzi E' questa la parte fondamentale Allora Questa qui è la mia configurazione Al momento Formato video Potete sceglierlo Io scelgo mp4 Perché è un po' più leggero E lo utilizzo meglio Risoluzione ragazzi Abbiamo l'opportunità di scegliere la risoluzione che vogliamo C'è anche il full HD Io metto 720p Perché comunque ragazzi Diciamo che Per la registrazione Poi voi giocate Insomma nel gioco Magari il gioco è a 1080p Però la registrazione Il file che avrete Sarà direttamente in 720p Non c'è una grandissima perdita di qualità Io preferisco ragazzi Registrare a 720p Perché una volta che carico i video su YouTube Diciamo su YouTube Sta differenza non si vede Insomma Farlo a 1080p Diciamo Occupa più spazio Secondo me Non ne vale la pena Una cosa che però Vale la pena Perché la qualità del video si vede da questo È il bitrate Ragazzi Ho scelto 14 MB per secondo È una buon compromessa Abbiamo l'opportunità di arrivare fino a 60 Ma c'è Più grande sarà appunto il bitrate Ragazzi E più pesante sarà il video Frequenza fotogrammi Allora ragazzi Qua la questione è un po' strana Perché da pochissimo YouTube Ha abilitato la possibilità di Caricare Gameplay Anche a 60 frame per secondo Io fino a ieri ragazzi Ho sempre fatto 30 Perché più di 30 Non andava Allora ragazzi Voi quando giocherete Se il gioco va a 60 Che poi I giochi che vanno a 60 Ormai Soprattutto su PS4 Lo so Veramente in croce Però ragazzi Voi giocate a 60 E l'HDPVR Vi registrerà a 30 Avete l'opportunità anche Di mettere a 60 Ma se poi il gioco Non ci va O comunque YouTube poi non vi permette Questo upload Secondo me ragazzi Lasciate a 30 E state bene così Poi Comunque Dipenderà molto da voi Nel caso Voi fate 60 Abbiamo la risoluzione Fino a 1080p Come vi ho già detto A 1080p però Non è possibile I 60 frame per secondo Magari con un aggiornamento futuro Ci arriveremo Però Per il momento Non ci sono Però Sinceramente Non serve a molto Per adesso ragazzi L'ultimo passaggio Sono gli hotkey Ovvero se Con un tasto Fate partire la registrazione O fate così dalla tastiera O premete direttamente Il tasto Sul Gamer portable Detto questo ragazzi Siete pronti Fate pronto E siamo qui Arriviamo qui ragazzi Come potete vedere Siamo arrivati A La replica Di quello che succede Direttamente Sul ps4 C'è un minimo Lag Ma ovviamente Voi non giocate Sul computer Ma giocate sulla televisione Quindi voi non vi accorgerete Di niente Qui avete delle opzioni Fate lo snapshot Vabbè Fate partire la registrazione Cliccate qui O cliccate di là Come vi ho già detto Togliete l'audio Ma Non vedo perché Cioè Togliete l'audio Semplicemente Dall'uscita Poi ve lo registra Come vi ho già detto Regolazione E tutte le piccole cose Facciamo partire Una piccola registrazione Così giusto Per vedere come va Adesso Lui registrerà Noi registreremo E viva a tutti Una volta terminata La vostra registrazione Ragazzi Aprite la cartella video E vedete Insomma Di trovare il vostro file Io l'ho messo qui sul desktop Per ricordarlo E questo è quello Che abbiamo registrato prima Va bene Non abbiamo registrato Niente Però Comunque ragazzi È questo Una volta che voi Avrete registrato Il vostro gameplay Sarà pronto Per l'editing E poi per il rendering Per quanto riguarda La registrazione PC free Ovvero La registrazione Senza l'utilizzo Di un computer La soluzione È semplicissima Perché con gli stessi Collegamenti Vi basterà Semplicemente Switchare La posizione Da computer A scheda SD Quindi voi Switchate Ovviamente Inserite la scheda SD Direttamente Dentro il vano E ragazzi Premete il tasto E parte la registrazione Ovviamente Adesso è spento Perché L'unica cosa Che dovrete cambiare È il cavo USB Ovvero Invece di essere collegato Al computer Lo collegate A una fonte di energia Che può essere Per esempio Questa cosa qui Ragazzi Quella con cui Io carico il telefono Attaccate tutto Alla corrente Così il gamer portable Si accende E voi con un click Potrete iniziare A registrare Questa è una soluzione Veramente molto comoda E veloce Ragazzi Come potete vedere Basta un click È facilissimo L'unica cosa Ragazzi Ecco che Mi sento di dire Che manca L'ingresso Per il microfono Ovvero quindi Registrando così Registrerete Solamente L'audio Del gameplay E il gameplay Senza la vostra voce In realtà ragazzi Per come la vedo io Conviene sempre Registrare Il proprio audio A parte In modo tale Che poi Nell'editing Potete fare Una cosa migliore Perché può succedere Sempre qualcosa E soprattutto Potete modificare Al meglio La cosa Però capisco Che magari Chi vuole fare Un gameplay Veloce Senza editing Proprio grezzo Magari Può essere utile Attaccare Un microfono Direttamente Al pvr Anche se Alla fine Ragazzi Se avete Le cuffie Con un microfono Che possono essere Attaccate Alla playstation O alla vostra console Potete comunque Registrare L'audio Direttamente Eccetera eccetera Questa è una soluzione Molto comoda Ragazzi La soluzione Ve la consiglio Soprattutto se uscite Se andate Che ne so A casa di amici E volete registrare Una partitella Tra amici Come vi ho già detto Per l'audio Preferisco utilizzare Audacity Che è un programma Ad hoc Che ci permetterà Appunto di settare E modificare Il nostro audio Solitamente Io lo lancio E faccio partire La registrazione Poco prima Qualche secondo Prima di far partire La registrazione Anche del gameplay In modo tale Che dopo Editando Proprio un secondo Riesco a sincronizzare Il tutto Allora Selezionate qui La vostra uscita audio Dove volete sentirlo Ma non ci serve Perché tanto Stiamo giocando Selezionate però Il microfono Io in questo momento Sto utilizzando Sempre lo snowball Ma avrei altre opportunità Selezioniamo E facciamo partire La registrazione Come potete vedere Qui comincia A registrare Il nostro tono vocale Una volta che avete finito Quindi è finito Anche il gameplay Fate stop Ok Questa è la nostra Registrazione Andate su file Esporta Io adesso Ho già tutto Impostato Salverò come MP3 Mettete un nome Salva Ok E ce lo esporterà Una volta esportato Ragazzi Lo troveremo Nella cartella predefinita Come potete vedere Ragazzi Qui ci sono tante attività Che voi potete fare Cioè ci sono gli effetti Tracce Fate tutto Modificate Io lo utilizzo Semplicemente Per registrarlo Perché Mi dà una registrazione Un po' più chiara E poi quando Proprio problemi Di audio Che proprio Fa schifo Insomma Modifico L'unica cosa Che vi posso dare Come consiglio Alle preferenze Insomma Settate Appunto La vostra Le vostre intenzioni Quello che volete Dalla registrazione Una volta fatto Esportate Avete finito E adesso vi faccio vedere Come registro La facecam Più o meno Ragazzi Seguiremo Lo stesso procedimento Della registrazione Dell'audio Ovvero Poco prima Di far partire La registrazione Del gameplay Apriamo Il nostro Programmino Della facecam Eccomi qua Questo sono io Non so se mi vedete Vabbè ragazzi Settate Perché sono così rosso Vabbè cose mie Settate un po' di roba Ragazzi Io utilizzo Semplicemente Il programma Quello predefinito Della webcam Però so sicuro Ragazzi Esistono altri programmi Per esempio Lo potremmo fare Anche con sony vegas pro Però non ci interessa Quindi Quando siamo pronti Abbiamo settato tutto Facciamo partire La registrazione Ecco qua Adesso è partita Registriamo Facciamo Facciamo quello che ci pare Una volta finito Facciamo stop Stopata la registrazione Eccoci qua Questo è quello Che abbiamo registrato Ecco qua Adesso è partita Registriamo Facciamo Facciamo quello che ci pare Una volta finito Facciamo Ok vabbè Era la nostra registrazione Una volta finito il tutto Ragazzi la ritroveremo E La utilizzeremo Magari nel momento In cui vogliamo fare Un gameplay Con la facecam E ora siamo pronti Per la fase di editing Personalmente Utilizzo Sony vegas pro 12 Che poi tra l'altro È anche una versione vecchia Però comunque ragazzi Utilizzo questo programma Per editare Attenzione Perché questo È un momento fondamentale Ragazzi Perché questa fase È probabilmente Anche più importante Di quella di registrazione Perché in questo momento Voi date vita Al vostro progetto Quindi In questo momento Decidete Che taglio dare Al vostro video Come modificarlo Magari potete partire Da un video Stupido Comunque brutto E lo potete far diventare bello Tramite l'editing Ragazzi Veramente Questa è una parte fondamentale Come ho già detto Io utilizzo Sony vegas pro Non credo adesso Di dovervi spiegare Per filo e per segno Come funziona Questo programma Perché Sinceramente Andremo fuori tema Ma soprattutto Sarebbe veramente Difficilissimo Adesso vi spiegherò Più o meno Come lo utilizzo io Per quello che devo fare Ovviamente I gameplay Partendo da qui Ragazzi Dovremmo iniziare Un nuovo progetto Quindi potremo fare news Io in realtà Inizio sempre I video con lo stesso progetto E il mio progetto Predefinito E questo qui 720p E 30 frame per secondo Sono veramente Un ottimo compromesso Se dovete caricare video Su youtube Per il resto ragazzi La cosa importante È che mettete Best A questa opzione qui Ovvero Full resolution rendering quality Mettete best Perché è la migliore qualità Possibile Nel momento in cui fate Il rendering Per il resto ragazzi Non credo che sia importante Altro Perché comunque Il resto lo vediamo Nel momento del rendering Detto questo ragazzi Iniziamo Possiamo importare Il nostro video Io qui L'ho salvato Nella cartella Che palle Ma è comunque Quello che abbiamo registrato Prima Qui vi farà una domanda Se vogliamo mettere Il video setting Del media Ovvero Se vogliamo rimanere Con la nostra preview Quella che abbiamo impostato O cambiarla Con quello Che abbiamo registrato Noi mettiamo No Così nella nostra Anteprima Abbiamo più o meno I settaggi Del nostro progetto Quindi questo era il video Che abbiamo fatto Noi ragazzi Ci sono veramente Tantissimi effetti Dovete un po' Smanettare Potete inserire roba Quello che volete Adesso ne facciamo Solo una breve cosa Per esempio Faccio vedere come Tagliare con S Per esempio S tagliate Fate quello di vivare Magari aggiungete qualche Tipo E ragazzi adesso Potete Ecco Traccia video Quindi se avete registrato La parte con L'audio Quella che avevamo fatto Prima per esempio Che è questa qui Con audacity L'aggiungete qui Registrazione Come potete vedere Qui Ok vedete Quella lì Era la traccia audio Che avevamo fatto prima E in più ragazzi Come ho messo prima Aggiungete una traccia video Questa era la video Vabbè Nella traccia video Ragazzi Qui in alto Possiamo aggiungere adesso Per esempio Il video che abbiamo fatto Sulla Facecam Quindi Aggiungiamo il video Che abbiamo fatto Con la webcam Adesso vedete Che Avendolo messo sopra Il video della Ma il santo So brutto Il video della webcam Sovrasta tutto quanto Una domanda Veramente frequente Mike Come fai a mettere Il quadradino in alto Con la tua faccia Niente di più semplice Ragazzi Perché Partendo da questo punto Qui Vedete C'è Questa opzione Vi si aprirà Questa Finestra Ragazzi basta Fare Ah no Aspettate Aspettate Dovete Impostare Queste due Opzioni Basta fare questo Ragazzi Vedete La riducete A grandezza Che vi interessa Poi la mettete un po' Dove vi pare Adesso la mettiamo qui Mazza però Aspettate Andiamo un po' più avanti Perché so veramente brutto Con questo inquadrato Mazza Quanto so brutto C'ho pure i rosci Sembro a ID Vabbè Comunque sia ragazzi A sto punto ragazzi Avete deciso la vostra grandezza Potete fare anche uno zoom Dell'immagine Cliccando qui Vedete Vi si aprirà questa situazione E potrete zoomare Muovervi come volete Se spuntate queste opzioni Ragazzi Potete anche farlo Vedete In maniera diversa Proprio Full control Neanche fossimo Non lo so E quindi ragazzi Decidete voi Come impostarlo Come volete Eccetera Ricordate sempre Che per muovere il quadradino Vi li spostate Così Magari ecco Questo potrebbe essere Un'ottima soluzione Quindi detto questo Ragazzi Il vostro video Sarà Poi ovviamente Ragazzi Sta a voi Che ne so A aumentare il volume Dell'audio Abbassarlo Qualità Abbassate Vedete La trasparenza Fate un po' voi ragazzi Ci dovete un po' smanettare Una volta finito La fase di editing Che ripeto ragazzi È vostra discrezione È vostra fantasia Non credo che Serva aggiungere altro Perché ripeto ragazzi La fase di editing Va lasciata a voi Io vi posso però Spiegare Come funziona La fase di rendering Il rendering È l'ultima fase In questa grande Catena di montaggio Che è la produzione Di un video E devo dire Che è importante Ragazzi Perché ottimi settaggi Di rendering Vi permetteranno Un'ottima qualità Finale Del video Allora ragazzi C'è da dire questo Se l'editing Lo lascio a voi Perché a vostra descrizione Il rendering Ha delle basi precise Perché secondo me Ci sono dei settaggi Che dovete rispettare Almeno per quanto riguarda Il mio gusto Io ho sempre Renderizzato Con certi parametri Che Diciamo che sono Un ottimo compromesso Tra qualità E peso Del video finale Perché ragazzi Un video Molto pesante Qualitativamente Vuol dire anche Molto pesante In termini di dimensioni E se lo caricate su youtube Un video da 5 giga 4 giga 6 giga Ci mettete un bel po' Soprattutto con le connessioni Che abbiamo in Italia Comunque una volta Confezionato il video È pronto Cliccate due volte Selezionando tutto il video E andate su Render as Vi si aprirà Questa finestra E come potete vedere Anzi come potete Non vedere Perché è trasparente Non capisco perché Queste sono le mie Configurazioni predefinite Ovvero quelle che utilizzo Spesso nei miei video Però ragazzi Ecco Guardate Ci sono veramente Tantissime opzioni In tutti i formati Che volete Quindi è a vostra descrizione Adesso vi faccio vedere Quello che utilizzo io Sempre nei video Ovvero Utilizzo questo qui Sony AVC MWC Perché mi permette Di renderizzare Il video in formato MP4 Che è Un formato Ottimo qualitativamente Ma anche molto Leggero Dal punto di vista Della pesantezza Del file Io utilizzo questo qui Ragazzi Che ho creato io Andate su Customize template Potete ricrearlo Anche voi Come potete vedere 1280x720 La risoluzione Del video Frame rate A 30 fps Quindi Ripeto Un ottimo compromesso La cosa importante Ragazzi È il bit rate Io utilizzo 8,5 Secondo me Ragazzi Questo è Un eccellente compromesso Anzi È anche Fin troppo alto 8,5 Perché Come vi ho già Detto Un video Con un alto Bit rate Vuol dire Anche Molto pesante Come file Molto pesante Quindi ci vorrà Tantissimo Per caricarlo E soprattutto Tutta questa qualità Su youtube Non si vede Cioè Sinceramente 8,5 Secondo me È anche Fin troppo Per il resto Ragazzi Un'altra cosa Molto importante L'encode mode Io ho messo Rendering using GPU If available E che vuol dire Quest'opzione Ragazzi Che Il peso Del rendering Non si Sposta Solo sulle spalle Del processore Ma se è possibile Viene utilizzata Anche la scheda grafica Per renderizzare Quindi Processore Più scheda grafica Renderizzano Ovviamente Molto più Velocemente Il video Per farvi capire In un video Da 10 minuti Ragazzi Io ci metto 7-8 minuti Però Questo è molto A discrezione Di che tipo Di hardware Ha il vostro computer Ragazzi Voi sapete Io ho un pc Da pro Quindi Ovviamente È molto più Più veloce Perché appunto L'hardware È più potente Il rendering Ecco È forse Un po' La cosa Un po' Noiosa Perché Se avete Un computer Non troppo Performante Magari Ci metterete Le ore Pensate Ragazzi Che ai tempi Di far cry Io ci mettevo Circa 3-4 ore A renderizzare Un cazzo Di video Di 15 minuti Per quanto riguarda invece L'audio Direi che A 120 Può andare bene Per il resto Ragazzi Ricordatevi sempre Di renderizzare La qualità Best Perché deve essere La migliore possibile Una volta fatto questo Rinominato il file E fate Render Una volta renderizzato Adesso passeranno Qualche secondo Visto che Insomma Dura Pochissimo Il nostro video Abbiamo finito Una volta finito Possiamo Vedere Quello che abbiamo Registrato Vediamo un po' Ecco qua Adesso è partita Registriamo Facciamo Facciamo Quello che ci pare Una volta finito Facciamo Stop E quindi ragazzi Questo era il nostro video Vi ho fatto vedere Come registrare Il gameplay Della console Come registrare L'audio E il video Dalla facecam E poi Inserirli All'interno del video Tramite l'editing E poi renderizzare Il tutto Io direi Che il nostro obiettivo È stato completato Così ragazzi Solitamente Io creo I miei gameplay Sono sicuro che adesso Mi direte Mike Questo era Come registrare Gameplay Su console Ma se io volessi Registrare Gameplay da pc Amico mio Niente di più semplice Perché su pc Io utilizzo Questo programmino Che è tra l'altro Il programma Con cui ho registrato Tutte le parti Del desktop Eccetera eccetera Questo programma Ragazzi Si chiama Fraps E potete scaricarlo Su internet In maniera Più o meno Diciamo Legale O come volete Fraps È un programmino Veramente Facilissimo Da usare Ragazzi Impostatelo così Perché secondo me È la soluzione Migliore Almeno quella Che utilizzo io L'unica cosa Che mi sento Di dire Su Fraps È che comunque Occupa veramente Tanto spazio Ogni video Veramente Gigantesco Perché il regista È in formato AVI Che è un formato Veramente pesantissimo Tanto è vero ragazzi Vedete qui C'è l'opzione Di dividere Il filmato Ogni 4 gigabyte Io ho messo Quest'opzione Fidatevi ragazzi Che ne occuperete Veramente tantissimi Quindi preparatevi Un hard disk O esterno O interno Comunque abbastanza libero Per il resto Ragazzi è facilissimo Basta premere un tasto Il mio F9 E inizia la registrazione Salvate la vostra cartella Predefinita Dove volete Che si salveranno I vostri video Avete l'opportunità Di anche Settare il limite Di fps Con cui registrare 60, 50, 30 Oppure lo impostate voi Io ho spuntato Quest'opzione Ovvero Se spuntate Quest'opzione C'è la possibilità Di registrare Direttamente Nello stesso file Tutto E l'audio Del microfono Come state sentendo Ora Se invece fate Ragazzi Delle registrazioni Sul computer Con registrazione Del video E a parte Il microfono Vi consiglio Di toglierlo Adesso io non lo tolgo Perché sennò Smetterei di registrare In realtà Potreste anche Registrare i gameplay Da pc Tramite il Evergamer Portable Collegandolo come se fosse Un pc free Ovvero USB al computer E i vari hdmi Direttamente Al pvr E allo schermo Però sinceramente Ragazzi Io non l'ho mai fatto Quindi io posso Parlare sopra esperienza Personale Quindi non l'ho fatto Però c'è anche Questa opportunità E quindi ragazzi Spero che questo video Vi possa essere utile Non è che ci siano Grossi trucchi Per registrare un gameplay Però Visto che ancora oggi Mi chiedete Mike come fai a registrare Che programmi usi Eccetera eccetera Credo che questo video Vi possa aiutare Magari prendete spunto E inizierete anche voi A caricare il video Su youtube O semplicemente ragazzi Registrerete video E gameplay Per voi stessi Così in amicizia Per divertirvi Quindi non mi resta Che salutarvi Nei commenti ragazzi Se avete domande Non esitate a farle Perché vi risponderò Tranquillamente Se posso aiutarvi In descrizioni Vi lascerò tutti i link Perché tanto Sono sicuro Che mi chiederete Quando ve lo posso Comprare questo Qual è il microfono Quale sono le cuffie Come si chiama il pvr Vi lascio tutto In descrizione Quindi ragazzi Passate là E leggete E fate quello che volete Per il resto ragazzi Vi do appuntamento Ai prossimi video Un'occhiata alla pagina Facebook Per rimanere sempre In contatto E sempre attivi Per scoprire Quali saranno Le prossime serie E quali saranno I prossimi video Un saluto a tutti Da Mike Shosha Spero di esservi stato utile Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Mike Shosha Mike Shosha Ciao